See you later, a pilotarlo Edoardo Baldi con il 2 invece Sara Del Pino, René Legati, 3 Spritz Olds, Massimo Barbini, 4 Smith De Greppi, Massimiliano Castaldo, 5 Sanpeggio Tess, Andrea Farolfi, 6 Soia Jet, Roberto Andreghetti che va agli allineati dietro al mezzo meccanico, la macchina stacca in questo momento, cavalli lanciati. See you later, prova a tenere la corda, in questo momento si va verso la piegata, sono tutti uno vicino all'altro, resiste bene See you later, adesso però deve guardarsi da Sara Del Pino che riesce a passare e va alla comando, passa anche Spritz Olds, 14 e 7, la situazione adesso dice Sara Del Pino alla comando, Spritz Olds all'esterno, poi invece secondo in corda, numero uno di See you later, Cavalli al passaggio ai 400, intanto c'è l'errore di Spritz Olds, il passaggio ai 400 in 29 e 5 alla comando quindi... Numero 3, Spritz Olds squalificato Sara Del Pino, Sara Del Pino alla comando della corsa in scia See you later, percorsia esterna e Soia Jet, 45 e 5, passaggio ai 600, si torna a transitare sotto le tribune con la situazione che adesso vede uno vicino all'altro Sara Del Pino e Soia Jet arrivano al passaggio al mezzo miglio, 1-0-2-3, situazione Sara Del Pino, Soia Jet più indietro, See you later, Sanpei ZS, chiude il numero 4 di Smith dei Grippi, cavalli che stanno per completare la piegata. Il passaggio al chilometro con 1-16-8, il tempo di Sara Del Pino, in questo momento detta il ritmo della corsa, Sanpei ZS, prova a portarsi al ridosso del battistrada, supera Soia Jet, va sul numero 2 di Sara Del Pino, cavalli che vanno ad affrontare l'ultima piegata. In lotta adesso quindi Sara Del Pino con Sanpei ZS, uno vicino all'altro, terzo incomodo invece c'è Soia Jet più indietro, Smith dei Grippi, cavalli che vanno a completare la piegata, si va verso l'imbocco della retta d'arrivo, è un duello tra Sanpei ZS e Sara Del Pino. Resiste bene Sara Del Pino, vediamo se ce la fa fino alla fine, Sanpei ZS e testa ci prova, testa a testa tra i due, sono veramente vicinissimi. Qua credo ci sarà da attendere l'ordine d'arrivo ufficiale, presumibilmente la foto perché Sanpei ZS e Sara Del Pino sono proprio lì, terza piazza, Soia Jet, ma quindi attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale.